Bella a tutti, allora hanno annunciato che esce Belan il 2 febbraio e sappiamo quali sono le sue skill eccetera ma volevo aiutarvi un po' a capire effettivamente come funziona, a cosa stare attenti di quello che sappiamo dell'unità eccetera perché non è tutto scontato e si potrebbero intendere cose che non sono sottintese, ok? Quindi parliamone un po', chiaramente utilizzerò la versione di Pride One perché è fatta molto bene, si divide le skill e tutto e ci sono un paio di punti a cui stare attenti su questa unità perché veramente non c'è niente a dare per scontato ma comunque, allora, lei è un warrior undead che è qualcosa che al momento ci mancava e come ogni warrior il suo ruolo è di ammazzare i tank e questo non cambia Ora, rispetto agli altri warrior come possono essere René, Aru eccetera eccetera insomma ma diciamo che funziona in maniera un po' diversa e cerca delle sinergie con il team e adesso andiamo a vedere esattamente in che modo lo fa e come vediamo nelle specialità ci dà controller e damage over time ma sia no adesso lasciamo la ultimate per ultima e iniziamo con la prima skill, la main, quella che spammiamo di più quella che usiamo per caricare l'ultimate effettivamente allora, praticamente quello che ci dice qua è cerco di tradurvelo per come è scritto perché la traduzione è giusta ma il come... il come fa in pratica questa cosa sbagliata praticamente ci dice che attacca il nemico più vicino con degli slash, ok? questi slash dopo si muovono in avanti per 5 metri e per 180 gradi, ok? questo è importantissimo perché non è tanto la traduzione che è fatta male è un po' il come viene interpretata la skill secondo me nel modo sbagliato praticamente non è lei che va avanti quindi non è qualcuno che va sulla backline nemica semplicemente sono i suoi slash che vanno avanti per 5 metri quindi lei fa la skill, quindi immaginatevi che lei è qua contro il vostro tank e poi la skill va indietro ma non è lei che si muove, è la skill che va più avanti, ok? quindi la skill ha un bel range a 5 metri quindi dalle 2 alle 3 unità sicuramente ve le colpisce e si fa 180 gradi attorno a lei quindi si fa letteralmente tutto metà cerchio praticamente, non è un cono ma comunque vabbè non è male però è importante capire che questa skill è la skill che va avanti e poi si fa i 180 gradi ma non lei quindi non è che è lei che si sposta avanti e va in backline questa cosa è importantissima da capire perché potreste pensare di voler usare lei in un modo ma in realtà lei rimane pur sempre una matta tank quindi non si muove dalla front line e comunque questo è un bene e dopo andiamo a vedere perché in ogni caso questa cosa fa il 200% del suo attacco e fa più danno se il target ha bleeding addosso ora, altra cosa importante a livello 181 aumentiamo i danni ma se il target ha bleeding addosso stunniamo anche quindi ha una buonissima possibilità di stunn ed è per quello che qui la viene considerata controller perché ha più modi per stunnare quindi questo è assolutamente importante ora, cerco di spostare un attimo la mia webcam qua che così evitiamo di coprire skill eventualmente passiamo alla prima sub skill le sub skill sono quelle che non controllate che vengono fatte ogni dot automaticamente dai personaggi evoca una spada nel terreno che fa danno pari al 110% dell'attacco in un raggio di 2.5 metri che solitamente è abbastanza per colpire tutta la front line avversaria poi dipende da chi c'è e cosa non c'è però metti una situazione dove avete che ne so, Adrian più Claude avanti o Adrian più qualcuno che è venuto avanti alla backline oppure due warrior li colpite quasi sicuramente entrambi in ogni caso mette bleed quindi 100% non è una possibilità di mettere bleed mette bleed al 100% e questo bleed fa il 50% dell'attacco ogni 2 secondi per 12 secondi questa roba fa tanto danno è un dot che fa parecchio danno nel senso no? e con i potenziamenti vari aumentiamo il danno aumentiamo la durata e arriviamo circa a un 400% di attacco di danno solamente ai dot che è particolarmente forte è molto comodo è molto comodo e soprattutto la cosa comoda non è tanto il danno del dot ma è più il fatto che il dot poi ci permette di attivare gli effetti aggiuntivi delle altre skill e della main skill comunque la seconda sub stessa identica cosa della prima la differenza è che la seconda sub fa più danno se il target ha bleed addosso piuttosto che mettere bleed quindi semplicemente una skill extra che fa danno se il target ha bleed addosso ok perfetto ora in che modo tutto questo kit ha senso? tutto questo kit ha senso di esistere grazie alla sua passiva che penso sia una delle passive più forti del gioco ma che ha un sacco di condizioni e allora praticamente tutti gli attacchi che lei fa sono critici contro target che hanno bleed addosso questa cosa è tremendamente forte ma ha una condizione altrettanto pesante inoltre il suo life steal è aumentato del 30% quindi praticamente l'obiettivo che ha lei è di stare in front line attaccando sempre gli stessi nemici perché attenzione su questa cosa è molto importante la sua sub attacca i nemici davanti a lei ok 2.5 metri proprio davanti a lei quindi contro i tank avversari lei ha un life steal aumentato e fa sempre critico è una matta tank che resiste anche ai colpi dal dietro degli avversari no è un bel kit unica cosa che veniva intesa nel modo sbagliato lei non va in backline è proprio un'ammazza tank ma è uno di quei warrior che tende a rimanere più in vita contro le backline avversarie per via del life steal che ha e questo è importantissimo ora ci sono da pensare tanti casi in cui però magari state iniziendo ad attaccare avete magari in front alla incontro una lindy e che ne so una una clara gente che inizia ad attaccare ma dopo con le loro skill in qualche modo si spostano clara perché ti stunna e si sposta oppure lindy perché fa la skill e sparisce se voi iniziate ad attaccare loro e applicate il dot a loro dopo sul prossimo target su cui andate non avete più questi bonus qui e quindi il suo kit è totalmente disinplicato praticamente contro alcune unità che vi trovate contro non è veramente non è niente di che e nei casi in cui invece avete contro dei main tank che stanno lì fermi o dei main warrior che stanno lì fermi è sicuramente super forte comunque vediamo la ultimate invece la ultimate fa danno a tutti i nemici quindi non ha un range fa danno a tutti i nemici mette bleed a tutti i nemici invece se i target che colpisce con la ulti ovvero se quando a ulta ci sono dei target che hanno già bleeding ovvero che sono già stati colpiti dalla sua sub skill fa danno aggiuntivo ora questa cosa è forte e c'è un'altra cosa molto forte scritta qui che però non viene intesa subito non può essere cleansato il bleed quindi se ci sono delle skill che tolgono i debuff nel team avversario non funzionano sul suo bleed questo è fortissimo e dura 12 secondi che sono tanti inoltre e quando abbiamo l'unità al 201 stunniamo anche tutti i target per 3 secondi e l'unica unità in gioco al momento che stunna aoe e fa danno a tutti i nemici è Mika quando c'è anche sia in campo che anche quella secondo me è una delle ultimate più forti del gioco al momento ma ha la condizione di avere sia in campo mentre lei non ha alcuna condizione se non di essere a livello 201 per fare anche lo stunn e ovviamente su target che sono già blindati quindi quasi tutti questi effetti funzionano solamente sui tank che lei ha di fronte bene o male ok ovviamente l'ultimate colpisce tutti quindi quando fate l'ultimate e state giocando in team con una yame o con una jacqueline che anche loro mettono bleed allora sicuramente tutto il suo kit diventa ancora più forte però è difficile che abbiate yame o che ci siano dei game dove giocate anche jacqueline secondo me e quindi non lo so in generale in generale è proprio difficile perché non c'è un team undead e bene o male undead penso sia il type che performa meno in story in questo momento ma non è neanche perché il team undead in sé è scarso ma perché i dps che vi trovate contro sono tutti fata e quindi vi faccio un esempio se siete contro 3 2 fate dps anche il fatto che siete contro vivienne e miriam che sono due fate dps che quando trovate contro spanno molto danno se lei non riesce a tenere la sua passiva dell'hypesteel up probabilmente è totalmente inutile è molto facile che esploda quindi è molto importante che lei venga giocata solamente quando si trova contro personaggi che non si muovono per nessun motivo perché altrimenti non è tanto per il danno ridotto che fate ma è più per il fatto che lei perde l'hypesteel che penso che sia una delle cose più utili in assoluto di tutto questo suo kit ok e nulla per completare come abbiamo detto quando attacca personaggi che hanno grid addosso lei critta sempre e il suo artefatto aumenta il suo crit damage quando arriviamo all'upgrade finale dell'artefatto probabilmente questa diventa la matta tank più forte al momento del gioco quasi sicuramente perché 60% crit damage aumentato ovvero 60% di crit damage aumentato sempre perché quando attiva la sua passiva praticamente critta sempre è molto forte è uno degli artefatti più forti considerato il kit dell'unità quindi in generale quello che volevo dire era queste sono le condizioni dove dovete stare attenti con chi giocare velanna contro chi giocare velanna è importantissimo capire che la main skill non è lei che si spotta in avanti ma sono i suoi attacchi che vanno in avanti quindi attenzione ok non è un assault in numero 2 non è già quelli in più forte assolutamente no è un'unità forte ha un kit bellissimo al momento secondo me non ha un team con la quale può essere giocata ma sicuramente come unità singolarmente è molto forte è l'unità cosa che non può assolutamente giocare contro unità come Lindsay non può giocare contro Clara non può giocare contro Claire non può giocare contro Jacqueline odio Jacqueline forse sì perché non è esattamente il suo target ma contro altri warrior invece oppure contro i tank tendenzialmente può giocare forse un'altra menzione buona è che non può giocare contro René come warrior perché René va ad evasione e quindi se missate gli attacchi missate l'hypesteal e lì secondo me è la sua fine insomma quindi nulla bene o male questo è tutto quello che ho da dire l'unità è molto bella sicuramente nel senso comunque è molto carina è molto forte il kit è veramente bello il problema è che ci sono queste cose a cui stare attento quindi è sicuramente giocabile ma deve essere giocata assuramente contro i team giusti perché altrimenti tutto il suo kit perde di importanza e nulla spero sia stato utile ok fatemi sapere se effettivamente vi è stato utile questa mini review del personaggio nei commenti se lo è stata ditemelo che eventualmente ne farò altre pian piano che escono altri personaggi perché ovviamente mi piace parlare dei pg eccetera eccetera e un attimo cercare di analizzare un po' come è la situazione ok per il resto fate i bravi una buona giornata a tutti e bella grazie a tutti